Buongiorno a tutti, abbiamo passato insieme tre moduli. Il primo modulo appunto era l'ipnosi non verbale, il secondo modulo l'ipnosi rapida, il terzo modulo abbiamo visto come cominciamo a fare una terapia, nel senso come facciamo la prima introduzione all'ipnosi. Ora andiamo più verso proprio le tematiche, le tematiche delle persone, i problemi, come li risolviamo.